Era il 3 marzo 2020 quando l'assessore alla sanità della regione Piemonte chiedeva un sacrificio alla comunità tortonese, trasformando in Covid Hospital l'ospedale civile Santi Antonio e Margherita, divenuto poi il primo nosocomio in Italia adibito ad accogliere e a curare i malati di SARS-CoV-2. Lo ha ricordato Luigi Genesio Icardi, in collegamento per l'inaugurazione del nuovo reparto di riabilitazione di Tortona finanziato dalla regione per circa 3 milioni e mezzo di euro e diretto dal primario di medicina riabilitativa Livia Colla. Occasione che ha portato con sé anche i festeggiamenti per il ripotenziamento di un ospedale in prima linea, sì durante la pandemia, ma che per anni si è pensato potesse chiudere. Grazie ad un progetto tenace che ha coinvolto più attori, in primis l'amministrazione comunale e il comitato nato proprio per salvare questo ospedale di frontiera, oggi il Santi Antonio e Margherita diventa migliore, offre più servizi ai cittadini senza nessun costo aggiuntivo, con una collaborazione unica fra pubblico e privato sotto controllo pubblico. Il reparto di fisiatria è vero, era stato promesso già da molti anni, ma non è il solo miglioramento che abbiamo nella nostra struttura, avremo ben presto altre strutture che saranno aperte o migliorate, un nuovo blocco operatorio, la robotica, per non parlare della gestione della piattaforma ambulatoriale e del pronto soccorso. Tempi record, dieci mesi per questo primo tassello di un ospedale che si rinnova, alla presenza del Vescovo di Tortona, Guido Marini, dell'On. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, dell'ex deputata Rossana Boldi e di altre autorità, in sinergia col distretto Asla L. A breve lo popoleremo, sia di operatori che di pazienti, e lo faremo con un modello che è un pochino diverso. È un modello che prevede l'ibrillazione tra pubblico e privato. Abbiamo indetto una gara, questa gara è stata aggiudicata e a breve firmeremo il contratto con un raggruppamento temporaneo di impresa che gestirà sia il reparto, gestirà il pronto soccorso e la piattaforma ambulatoriale. Prossimo step, far diventare Tortona il centro di riferimento robotico del territorio, una rivoluzione necessaria, ha sottolineato il direttore del Dipartimento Chirurgico Asla L, Franco Montefiore.